Siamo in più al centro, Micheli, Valtino, Giusi Malato, il braccio, il pugno al cielo, quello che volevo vedere da lei. Ci penso, ci penso spesso a quei momenti, anche perché la mia casa e i miei amici sono i ricordi di una vita, per cui ce l'ho sempre presente queste cose. Giusi in acqua ha vinto tutto e con il sette rosa alle Olimpiadi di Atene del 2004 ha conquistato anche la medaglia d'oro. Tra le foto che ci ha spedito c'è anche questa con il Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi. Quei tempi sono lontani adesso, ma Giusi ha la stessa tenacia di allora. L'avversario oggi si chiama Cassa Integrazione, è molto più pericoloso e non si sa quanto tempo durerà la partita. Noi siamo in Cassa Integrazione dal 16 di marzo, l'ultimo stipendio che abbiamo preso è stato quello di febbraio. I ragazzi invece degli istruttori, alcuni non percepiscono da gennaio, alcuni non percepiscono stipendio da febbraio. Il coronavirus non ha risparmiato il settore sportivo e ha messo in ginocchio anche l'associazione per cui Giusi lavora in provincia di Catania, insieme ad un altro centinaio di persone. Il mio è un grido che è un grido di tutti i ragazzi che lavorano a Torre del Grifo e comunque di tutto il settore, perché il settore non si sa quando ripartirà, se ripartirà e come dovrà ripartire, quindi siamo in serie difficoltà. E tu sei in difficoltà in questo momento? Io posso vivere in questo momento la possibilità, ho dei soldi da parte, li sto sfruttando, finiranno prima o poi, ma li sto sfruttando e ce li ho.